In 21 farmacie dell'Umbria sarà possibile sottoporsi allo screening gratuito per il diabete. La nostra regione è capofila a livello nazionale nella lotta a questa malattia. Federica Becchetti. Prima la misurazione della glicemia, poi la compilazione di un questionario anonimo con informazioni di carattere generale, infine una prima diagnosi e l'eventuale indicazione a rivolgersi al proprio medico. È lo screening del diabete. Fino a lunedì prossimo sarà possibile effettuarlo gratuitamente anche in 121 farmacie dell'Umbria, 81 nella provincia di Perugia e 40 in quella di Terni, senza bisogno di prenotazione. L'iniziativa, ora divenuta nazionale, è stata promossa per la prima volta proprio in Umbria nel 2013. Siamo riusciti in Umbria a fare screening per 11.093 persone in questi anni e da quel momento tutto questo è diventato un progetto nazionale. E quindi con grandissimo orgoglio noi, come Umbri, abbiamo trasferito a livello nazionale forse lo screening più importante che c'è perché aggregheremo circa 400.000 persone. Un'indagine epidemiologica di fondamentale importanza con la quale si identificheranno anche i soggetti potenzialmente a rischio, così da fare prevenzione.